allora bacchisio il secondo se ne è dato il mister anche il ds mi devo accontentare di parlare tecnicamente col ds ascolta io l'ho detto anche al mister del pelino cioè il sala mi è sembrato troppo brutto per essere vero io non c'è poi siamo avesse è vero che siamo agosto è vero che non conosciamo quali sono le i carichi di lavoro quelle cose però è anche vero che domenica si gioca e quindi penso cioè un pochino nato l'ho fatto anch'io di solito si scarica e si comincia a scaricare comunque logico che poi queste qui però non le posso sindacare io però oggi veramente troppo brutti da essere veri lo pensi come me ma diciamo che innanzitutto bisogna fare i complimenti al felino perché hanno fatto un'ottima partita e hanno vinto meritatamente alla fine come risultato anche detto diciamo che per noi era il primo affaccio diciamo su quella che sarà una categoria quest'altro anno che quest'anno che appunto di un livello superiore rispetto a quella che abbiamo affrontato l'anno scorso abbiamo una squadra comunque molto nuova nonostante abbiamo cercato comunque di confermare lo zoccolo duro è normale che comunque all'inizio qualche meccanismo non sia proprio del tutto collaudato quindi non facciamo drammi ovvio che sì non siamo quelli che si sono visti oggi detto questo abbiamo cieca fiducia nell'operato del nostro allenatore che sicuramente col passare del tempo riuscirà a dare la propria impronta alla squadra ma bisogna fare i complimenti al felino oggi e lavorare tanto però ripeto non facciamo troppi allarmi perché ecco non non è il giusto momento ecco secondo me sì sì infatti ho detto siamo siamo ad agosto cioè sicuramente cioè lo ripeto cioè non può essere così nel senso che io l'ho visto l'anno scorso è vero che era un'altra un'altra categoria però insomma cioè certe cose dovrebbero saltare fuori anche quest'anno visto proprio che avete tenuto sì lo zoccolo duro ma avete anche inserito qualche giocatore di spessore quindi cioè così la brutta giornata ci sta l'emozione può essere tanto pubblico oggi veramente faccio i complimenti e beh è un derby che io vedevo quando quando c'era il felino e real real prima che facessero prima che facessero la fusione e no era real era real si chiamava real baganza no non val no è stata ti spiego è diventato real val baganza quando hanno fatto la fusione felino real ok io c'ero giocare cavolo andiamo indietro di 50 anni nove un po meno ascolta è davvero tantissimo pubblico è stato bello proprio anche vederlo partita direi estremamente corretta l'unica cosa di cui non sono stato convinto è stato l'arbitraggio secondo me ha commesso due o tre eroi di quelli strani te lo dico e non voglio giustificare il fatto che abbia ammonito del sena per la seconda volta su dalla tribuna era sembrava pallanetta quindi cioè anticipato l'attaccante però poi alcune decisioni non mi ha convinto però questo non deve essere una giustificazione perché loro avevano comunque è creato tantissimo è così ascoltami belle età della società posso immaginare le materiche dello stesso no 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 le nostre le nostre diciamo ambizioni è quella di fare anzi qui strappo una una frase del del nostro mister lo capiremo magari dopo una decina di partite ecco perché abbiamo una rosa che è molto giovane e che costruita chiaramente col l'obiettivo primario quello di cercare di di mantenere la categoria e cercare di fare bene e poi dopo su un obiettivo vero e proprio si sarà lottare per salvarsi oppure per qualcosina di più lo si capirà a strada facendo però l'obiettivo quello innanzitutto di mantenere il tanto entusiasmo che c'è adesso a sala baganza e col passare del tempo avremo anche diciamo un obiettivo proprio di classifica un po più diciamo tangibile ecco però aspetterei qualche partita prima di dare diciamo un un obiettivo ben definito ecco io faccio i saluti a bacchiso de sena che era uno stopper grandissimo dei miei tempi e poi a mister lombardi che conosco fin dai tempi del borgotaro quando era arrivava arrivava in emilia per questione di lavoro ed era stato eletto miglior centrocampista della toscana non so se lo sai però te lo dico ho avuto la fortuna di di averlo anche come giocatore nella parte finale a palanzano anche seppur diciamo ha giocato un pochettino poco perché qualche acciacco di troppo c'era però si vedeva la qualità però questa qualità qua ce l'ha anche in panchina quindi siamo tranquilli ecco su quel punto di vista lì ok ti facciamo in bocca al lupo ci vedremo ciao 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 a tutti